Findus presenta La Fiducia, con la partecipazione di zuppa di pesce e seppie piselli. Ma stai cucinando la zuppa di pesce? Tu? Sì, perché non ti fidi? Non so, il profumo promette bene. Vedrai che ti stupirò, fidati. Che buoni questi gamberi. Una pescheria di fiducia. E le vongole? Buonissime. E devi ancora assaggiare seppie piselli. Wow, sarà stato difficile. No, solo ho seguito le istruzioni sulla confezione. Ho capito. Findus, il sapore della vita. Grazie.